La crisi morde e certo tutti hanno tirato un po' la cinghia. Immaginare però che i napoletani potessero, oltre a vendere i preziosi di famiglia, arrivare a cedere anche il presepe di famiglia è sicuramente una triste novità. A denunciare il fenomeno, uno dei pastorai storici di Napoli, Renato Colucci, che da decenni, in Vico Cinque Santi, alle spalle di San Gregorio Armeno, realizza piccole opere d'arte. Vengono delle persone che vogliono vendere i propri presepi oppure vogliono vendere i pastori che hanno, si vogliono disfare perché hanno la necessità di pagare le bollette per la sopravvivenza. Si trovano in grosse difficoltà, è un periodo triste che non hanno lavoro e con un minimo di pensione non possono arrivare alla fine del mese. Automaticamente quello che hanno in caso cercano di venderselo per poter pagare le bollette per poter andare avanti. Il fenomeno era cominciato a vedersi già l'anno scorso con alcuni casi isolati, ora però sono già decine le persone che si sono recate nella bottega di Colucci. Lui qualche presepe l'ha comprato, ma certo la crisi non risparmia nemmeno i pastorai che quindi non possono aiutare i concittadini che si trovano in difficoltà. Anche noi non siamo, stiamo in condizione di poter comprare presepi o pastori perché automaticamente viviamo in un momento di crisi, di forte crisi perché i turisti sono pochi, la gente non spende perché si sta in difficoltà, cioè la crisi è di conseguenza generale.